Benvenuti a questo video tutorial sul webquest dal sottotitolo ricerche progetti guidati in rete tutti i materiali presentati sono soggetti a un copyright connesso a creative commons in particolare by vale a dire si richiede che la fonte venga citata e nc vale a dire che i materiali possono essere riutilizzati ma per finalità non commerciali innanzitutto un'introduzione vale a dire vediamo cosa è e a che serve il webquest la prima domanda cosa è? innanzitutto è una strategia didattica attiva che impegna gli studenti a fare delle ricerche online da qui il nome su una serie di materiali messi a disposizione dal docente già validati dal docente delle ricerche sulla base di un protocollo che vedremo che normalmente si concretizzano in relazioni, analisi, prodotti in varie tipologie ma il cuore del webquest è una ricerca guidata su dei materiali forniti dal docente questi sono normalmente i passaggi che vengono suggeriti per un buon webquest vale a dire l'introduzione, poi la esemplificazione del compito, poi la consegna delle risorse indicazioni sul processo, suggerimenti sulla base di quello che il docente prevede possano incontrare come difficoltà gli alunni e infine il momento della conclusione poi vedremo nel dettaglio ognuno di questi passaggi come si vede a differenza del PBL e del problem based learning il webquest risulta molto più strutturato poiché le risorse sono di norma date dal docente e gli allievi non possono uscire dalle risorse date in più c'è un processo da seguire che di norma è abbastanza rigido diversamente dall'apertura totale del PBL vediamo adesso a cosa può servire il webquest diciamo che tre possono essere gli scopi il primo, abbiamo detto per effettuare ricerche sul web che non siano dispersive oggi è praticamente impossibile dire a uno studente di fare una ricerca su internet nonostante questa pratica sia abbastanza diffusa perché internet è una sede di milioni e milioni di documenti non verificabili da parte del docente quindi il primo scopo, quello più pratico del webquest è quello di far fare ricerche sul web non dispersive poiché legate a documenti già vagliati dal docente le ricerche possono essere fatte in gruppo o in singolo un altro scopo è quello di innovare la didattica attraverso un compito che sia il più possibile autentico grazie all'utilizzo di questa che è una delle tante metodologie attive come la classe capovolta, il digital storytelling, il peer-to-peer o come abbiamo detto prima il PBL, il problem-based learning poi infine c'è un'altra finalità usare il webquest è anche un modo di integrare sensatamente le tecnologie nella didattica al di fuori delle mode, al di fuori dei gadget il webquest, che peraltro richiede pochissima tecnologia è un modo per far entrare sensatamente l'uso e la riflessione sulle tecnologie in classe attraverso una metodologia precisa vediamo ora quante tipologie esistono di webquest Bernie Dodge, docente statunitense che nel 1995 immaginò il webquest ha distinto essenzialmente due tipologie webquest breve ed è orientato soprattutto a rafforzare conoscenze e come output ha un testo una relazione abbastanza breve che si concretizza normalmente in una presentazione come può essere un powerpoint oppure un testo per webquest breve si intende qualcosa che impegni i ragazzi per una o due lezioni quindi un lavoro che inizia e finisce nell'arco al massimo di una settimana questo webquest può essere svolto anche in singolo poi c'è quello lungo che invece è più orientato alla risoluzione dei problemi viene posto e proposto un compito più complesso più articolato è assolutamente consigliato in questo caso il lavoro di gruppo e per lungo si intende qui un lavoro di una durata di almeno tre settimane o quattro settimane cosa hanno in comune breve e lungo la struttura che abbiamo visto prima e il fatto che sia il docente a fornire per lo più i materiali da utilizzare per la ricerca torniamo quindi sulle quelle sei fasi che sinteticamente abbiamo visto prima Bernie Dodge esemplifica il processo di un webquest in sei punti naturalmente vanno intesi in maniera piuttosto elastica ma questi sono un buon riferimento per tutti coloro vogliano integrare questa strategia in classe rivediamoli in breve introduzione, compito, risorse, processo, suggerimenti e conclusione il primo, l'introduzione è abbastanza prevedibile qui l'insegnante fornisce obiettivi e informazioni sul lavoro da svolgere informazioni anche semplici come sui tempi, i ruoli, se ci sono, gli strumenti illustra anche i criteri di valutazione finale il compito qui l'insegnante chiarisce cosa bisogna fare vale a dire le consegne da svolgere quali prodotti realizzare se in output c'è un prodotto ed eventualmente illustra degli esempi già realizzati risorse questa è la parte forse più importante qui il docente fornisce in genere una sitografia o comunque tutti i materiali utili per il completamento del lavoro anche pagine del libro di testo ed eventualmente anche criteri per utilizzare altri documenti esterni a quelli forniti punto numero 4 il processo qui l'insegnante esemplifica le fasi che suggerisce possono essere seguite proficuamente dagli studenti se gli studenti sono già abbastanza esperti possono forse fare a meno di questo punto ma le prime volte è particolarmente utile suggerimenti questo è un passaggio che può essere fornito anche in corso d'opera in itinere come si suol dire sono tutta una serie di suggerimenti e spunti che il docente che ha esperienza di web quest può dare agli alunni sulla base delle prevedibili difficoltà che si incontreranno e infine conclusione è il momento in cui in singolo in gruppo vengono presentati i risultati del lavoro ora vediamo in quanti modi può tradursi l'impegno di un web quest vale a dire quali prodotti possono uscire da questo da questo lavoro il web quest infatti può assumere varie forme anche a seconda degli obiettivi didattici dei tempi degli argomenti che vengono scelti il primo può essere una relazione la classica relazione parla di un testo un testo di media lunghezza quattro cartelle cinque cartelle che studia un determinato argomento dato sulla sitografia fornita dal docente un compito invece leggermente diverso è una ricerca qui l'insegnante fornisce molti documenti quindi una sitografia molto ampia prevedibilmente in tempi molto lunghi almeno un mese e saranno gli alunni qui a reperire all'interno di quel contesto vagliato e già validato dal docente una loro ricerca secondo alcuni criteri che si sceglieranno che verranno suggeriti dall'insegnante oppure un altro compito può essere la progettazione generare un prodotto e qui si capisce che il web quest è molto orientato a un compito autentico un prodotto di cui qualcuno ha bisogno che so realizzare una guida una guida turistica pensiamo un liceo linguistico o un manifesto pensiamo oppure alla robotica educativa insomma qui l'esito è un prodotto tangibile oppure un'analisi uno studio analitico per esempio fornire agli alunni tutta una serie di dati su un tema ad esempio l'immigrazione per rimanere sulla stretta attualità e chiedere di farne uno studio in base a dei criteri o anche una tesi quello che Bernie d'oggi chiama il task cioè il compito persuasivo scrivere un testo che abbia la funzione di convincimento su un pubblico potrebbe assomigliare per esempio alla tipologia saggio breve oppure un esperimento un esperimento di laboratorio qui i materiali forniti più che sitografia sono strumenti materiali che i ragazzi possono reperire per esempio in laboratorio a proposito di strumenti vediamo cosa serve per avviare un webquest le richieste per questa strategia didattica sono molto poche serve una connessione ad internet indubbiamente non veloce non necessariamente veloce un dispositivo che possa essere impiegato per quella ricerca un tablet se si tratta solo di consultare o eventualmente un computer se si tratta anche di produrre materiali eventualmente degli spazi ad hoc questi se ci sono sono molto utili ma non sono strettamente necessari parliamo per esempio di aule con banchi ad isola se questi strumenti non ci sono o non sono così performanti bisogna considerare che almeno nella scuola secondaria gran parte del lavoro viene svolto dai ragazzi a casa quindi di norma l'introduzione si fa in classe i suggerimenti vengono dati in aula e il momento della conclusione viene svolto insieme a scuola vediamo ora quali paradigmi didattici e quindi in altre parole quale pedagogia è dietro al webquest sostanzialmente potremmo dire che due sono i pilastri che reggono questa strategia didattica il primo è il costruttivismo e vediamo ora qualche principio uno dei principi del costruttivismo è quello come dice la parola stessa che è il sapere costruito dal soggetto informazione allo stesso tempo il sapere è anche come spiega il webquest in altre parole il risultato di un processo che insieme agli altri noi costruiamo e il sapere, questo è un aspetto apparentemente più periferico ma altrettanto importante è anche la risultante di una negoziazione di ruoli e significati che proprio per questo invitano gli studenti a lavorare anche insieme altro aspetto tipico del costruttivismo è quello di ritenere che il sapere autentico è sempre calato in situazione non è mai completamente astratto non è mai completamente avulso dalla realtà è come si suol dire sempre situato ed è questo il motivo per cui si consiglia di effettuare sempre un webquest che sia il più possibile un compito autentico di conseguenza il costruttivismo ritiene che il sapere non è solo il risultato di una trasmissione di contenuti quindi di una, per esempio, tradizionale lezione frontale e allo stesso tempo ritiene che l'apprendimento non possa prescindere dai gusti, scelte, motivazioni, inclinazioni dello studente, cioè di colui che apprende l'altro pilastro che regge il webquest è quello del cosiddetto Mastery Learning cioè l'apprendimento per la padronanza potremmo renderlo in italiano di cosa si tratta? l'idea è che tutti possano raggiungere buoni o ottimi risultati se vengono create le condizioni ambientali favorevoli in altre parole l'apprendimento è il risultato tra le altre cose anche delle condizioni ambientali molto spesso non se ne tiene conto per esempio a scuola tutti i ragazzi ad un compito in classe sono chiamati nello stesso giorno inevitabilmente a mostrare loro conoscenza ecco, in alcuni casi questo può funzionare ma per alcuni compiti, per alcuni argomenti alcuni ragazzi hanno bisogno di più tempo in quel senso dunque le condizioni ambientali sono favorevoli per alcuni e non per altri il web quest, dando in genere tempi abbastanza lunghi consente a tutti di realizzare quanto dovuto in un tempo congruo anche ai propri stili di studio e apprendimento ora vediamo qualche consiglio da parte di chi lo ha implementato per risparmiare un po' di tempo visto che le prime sperimentazioni in genere richiedono una sorta di ingegnerizzazione del processo che richiede a volte tempi lunghi il primo, scegliere un tema che in un certo senso provenga dall'interesse della classe questo per lavorare naturalmente sulla motivazione un altro aspetto è questo visto che come ogni metodologia attiva il tempo richiesto è abbastanza lungo si può suggerire un argomento portante della disciplina uno dei cosiddetti nuclei o nodi concettuali della disciplina visti appunto i tempi abbastanza lunghi richiesti non è obbligatorio ma è molto consigliato far lavorare i ragazzi in gruppo anche perché di norma è in singolo che lavorano quindi un'occasione come questa può essere ottima per lavorare in gruppo ipotizzare tempi lunghi per la realizzazione ma essere abbastanza rigidi nella consegna nel rispetto delle consegne che vedremo poi potrebbe anche essere un indicatore per la rubrica da utilizzare per la valutazione e strutturare poi il lavoro il più possibile come autentico altrimenti il rischio è di ideare un webquest che in realtà si approssima moltissimo a un compito assolutamente tradizionale cioè a dire a un esercizio altro aspetto che ho lasciato per ultimo non a caso è quello di non mettere la tecnologia al centro quindi utilizzare strumenti tecnologici già noti e magari già anche utilizzati da parte degli studenti questo può essere utile per non disperdere energie in un aspetto che nel webquest è secondario vediamo ora la valutazione come ogni metodologia attiva il webquest richiede una valutazione ad hoc non possiamo usare gli stessi criteri che adoperiamo per valutare un compito tradizionale e un altro aspetto importante è che il webquest non è ossessionato dalla misurazione delle conoscenze acquisite naturalmente queste sono importanti ma sono una frazione del processo non sono l'obiettivo del processo per esempio bisogna valutare come è stato il lavoro di gruppo e se c'è stato il lavoro di gruppo perché non sempre questo è scontato bisogna per esempio valutare anche il rispetto delle consegne come dicevamo prima l'uso consapevole dei materiali forniti e quindi occorre valutare quanto e se gli studenti abbiano effettivamente consultato tutti i materiali e perché ne abbiano scelti alcuni e perché scartati altri valutare è interessante anche l'impiego delle tecnologie per evitare che esse abbiano un ruolo centrale ma puramente esornativo del lavoro svolto allo stesso tempo è possibile valutare le competenze trasversali cosiddette soft skills come l'ascolto attivo la collaborazione queste sono valutabili però se il webquest è in parte svolto in aula perché in essa il docente può effettivamente vedere competenze in atto allo stesso tempo occorre anche valutare quanto i ragazzi sappiano a loro volta valutare ciò che hanno fatto quindi la metacognizione messa in atto e per fare tutto questo è opportuna più che una griglia tradizionale da POF una rubrica ad hoc di valutazione con criteri più possibile misurabili e chiari che di norma vengono illustrati nella primissima fase nella introduzione che è il primo dei sei passaggi di cui si compone il webquest vediamo ora qualche conclusione parlando onestamente di punti di forza e debolezza come ogni metodologia attiva non è adatta a tutto ma può essere adatta in determinate circostanze in determinati contesti per determinati argomenti questi possono essere i punti di forza senz'altro un aumento della motivazione connessa anche alla novità un altro punto di forza è che i ragazzi si trovano a confrontarsi con un compito autentico un altro potrebbe essere quello di iniziare a lavorare in gruppo cosa affatto semplice un altro aspetto sicuramente positivo è che l'insegnante può in parte realizzare la cosiddetta personalizzazione dell'apprendimento e allo stesso tempo può ospitare di tanto in tanto processi di valutazione autentica e invitare gli alunni a fare a loro volta autovalutazione vediamo ora però i punti di debolezza il primo il più importante è forse la richiesta di cambio di paradigma per il docente specie se questo docente è particolarmente abituato a una lezione frontale allo stesso tempo un altro problema è quello dei tempi lunghi di progettazione si consiglia infatti di lavorare almeno con un collega anche per dimezzare certe tempistiche specie iniziali difficoltà del lavoro di gruppo tanto dei docenti quanto degli alunni non è affatto scontato che i ragazzi vogliano e sappiano lavorare in gruppo e poi in ultimo può parere curiosa ma non lo è c'è un certo timore e resistenza da parte degli allievi anche diciamo di quelli che normalmente si impegnano di più perché di fronte a questa metodologia si sentono più impreparati in quanto di norma sono abituati a rispondere su un contenuto già studiato qui il contenuto già studiato non c'è occorre risolvere un problema produrre un prodotto che non è necessariamente migliore di un altro quindi questo aspetto può destabilizzare all'inizio alcuni studenti questi dunque i punti di forza e i punti di debolezza grazie per l'attenzione e se c'è interesse è possibile anche organizzare approfondimenti workshop e corsi sul tema in oggetto la mail è info chiocciola design didattico punto com grazie per l'attenzione